140 pacchi di generi alimentari prendono la strada di casa di altrettante famiglie pesaresi in condizioni di indigenza. È un gesto di impegno caritatevole che si ripete ogni mese, quello con cui si rimboccano le mani che i circa 100 volontari del Banco di Solidarietà costola importante delle tante attività portate avanti dall'Associazione Centro di Solidarietà. Quella di sabato scorso è stata però una consegna ancora più speciale perché coincisa con l'inaugurazione del rinnovato capannone del Banco di Solidarietà che si trova in via fermo attiguo al Banco Alimentare, principale fornitore degli alimenti da donare. Vuole essere proprio un aiuto alla povertà praticamente e quindi si fa proprio un lavoro molto capillare perché noi prendiamo dal Banco Alimentare con una convenzione gli alimenti e poi li consegniamo direttamente alle famiglie, quindi vogliamo fare proprio un lavoro di condivisione, non è solo un semplice volontariato, un far qualcosa, ma vogliamo condividere la vita con le persone che hanno questa necessità. Lo vogliamo fare perché prima di tutto è un gesto educativo per noi, perché ci aiuta proprio a capire anche più il valore della vita e quindi a fare un'esperienza di gratuità che veramente ci aiuta a guardare in modo diverso la persona. Il capannone e l'azione dei volontari hanno ricevuto la benedizione del Vescovo Sandro Salvucci, l'applauso dell'assessore Pandolfi e del consigliere Redaelli per il Comune di Pesaro, oltre a quello di Andrea Biancani per la Regione Marche. I circa 10 mila euro di spese di riqualificazione della struttura hanno avuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e di Unicredit Foundation. Abbiamo avuto questi locali incomodato gratuito, ma la manutenzione la dobbiamo pagare noi, quindi oggi vogliamo far vedere un po' la ristrutturazione che è anche una cosa semplice, tutta la controsoffittatura è stata fatta, la tinteggiatura dei locali per avere dei locali un po' più puliti e anche più funzionali, però abbiamo voluto far coincidere anche proprio la consegna dei pacchi, così che si possa vedere cosa fa il volontario che viene e che prende il pacco. La consegna dei pacchi approda nelle case di Pesaro, Montelabate e Vallefoglia come punto d'arrivo di una macchina di solidarietà ancor più ampia. Con un'apposita convenzione riceviamo gli alimenti dal Banco Alimentare che li riceve dalle grandi distribuzioni, quindi il Banco Alimentare dona agli enti caritatevoli e noi siamo uno di quelli, quindi noi riceviamo principalmente dal Banco Alimentare, poi c'è un altro gesto molto bello che facciamo che è il donacibo, lo chiamiamo così, andiamo nelle scuole nel periodo prima di Pasqua praticamente, andiamo nelle scuole primarie, la scuola elementare scuola media, andiamo lì proprio per insegnare agli studenti un gesto di gratuità e questa cosa è tutti i prodotti che vengono raccolti nelle scuole e vengono poi portati qui al Banco.